Dove sarai, esile corpicino, costituito da sola bontà? T'avrai voluta sempre vicino, come tu potevi, con quel tuo dono dell'ubiquità. Ti penserò nelle galassie, ove raccoglierai tutte le stelle che nelle tue piccole mani diverranno fiori idumi il profumo. Li regalerai a ogni anima di quei malati terminali che vedesti morire. Loro, che osservando nel baluginio dell'ultimo respiro il tuo sacro volto increspato, vinsero la sofferenza. Noi, gente comune di questa terra, ti invocheremo nei momenti più bui come fossi già santa e tu, dalla tua dimensione, lascerai cadere una lacrima causata dal fatto di non poter essere vicina a chi ti invoca. A quel punto Dio libererà i tuoi fiori, lentamente discenderanno sulla terra ma solo chi sarà sincero potrà stringere tra le dita un piccolo non-ti-scordare esile luminoso che profuma di sola bontà. Grazie a tutti.